Colpo di scena all'interno della casa del grande fratello VIP, dove in queste ore Giulia Delellis si è resa protagonista di nuovi clamorosi strafalcioni video che hanno scatenato un vespaio di polemiche in rete e sui social, al punto che in molti hanno chiesto anche alla produzione di procedere con la squalifica dal gioco. Nel dettaglio qualche giorno fa Giulia si è lasciata andare ad un'espressione infelice sui bidelli della scuola italiana, che tuttavia secondo i fan della Delellis sarebbe stata fraintesa o per meglio dire sarebbe stata costruita ad arte una polemica intorno al suo nome. Nel dettaglio Giulia avrebbe detto che nella scuola c'erano dei bidelli handicappati, aggiungendo poi che è cosa risaputa il fatto che nella scuola vengono chiamati prima coloro che hanno dei problemi di natura fisica e psichica. Il mondo social, invece, il giorno dopo si è scagliato contro la Delellis perché pare che abbiano sentito la frase i bidelli sono tutti handicappati. Ecco che è nato l'ennesimo polverono mediatico, con persone che sui social hanno chiesto addirittura di prendere dei provvedimenti contro Giulia dopo la sua frase ritenuta scandalosa che ha acceso le polemiche in rete. Ovviamente la produzione del GF VIP non si è ancora espresso sull'argomento, ma difficilmente nel corso della puntata in diretta del 27 novembre vedremo che saranno presi dei provvedimenti contro la ragazza, la quale come ben saprete ha già conquistato il suo posto in finale. Giulia Delellis Ignazio Peccato, però, che avesse commesso l'ennesimo strafalcione, visto che Trento non è una regione bensì una città ed ecco che Ignazio Moser LH ha subito corretta, dicendogli che si doveva dire salutiamo gli amici di Trento. Dopo questa gaffi il mondo social ha cominciato a deridere la bella Giulia, la quale per l'ennesima volta è stata presa in giro su web. In molti elle hanno attaccata dicendole che terminata l'avventura con il grande fratello VIP farebbe bene a riprendere con la scuola, grande fratello VIP 2 Giulia Delellis.